Il primo aprile segna una data importante per chi ha richiesto di andare in pensione usufruendo della quota 100. L'Inps di Chieti comunica che le prime pensioni sono già pronte per l'erogazione. La prima possibilità di andare in pensione per chi ha fatto manda quota 100 era il mese di aprile. Per il mese di aprile, diciamo che per la provincia di Chieti, noi abbiamo tre sedi, Chieti, Lanciano e Vasto, c'erano circa 450 domande, sono state istruite quasi tutte e anche andranno in pagamento quasi tutte già nel mese di aprile. Dico quasi perché ci sono dei casi un po' particolari che stiamo gestendo comunque, quindi nessuno è stato tenuto indietro, ma in alcune situazioni c'è bisogno di approfondimenti. Però la maggior parte dei cittadini, possiamo dire oltre il 90%, riceverà già a aprile la rata di pensione nel mese di aprile. Questo non è uno sforzo solo della sede di Chieti, è un impegno che ha preso l'Istituto a livello nazionale. Devo ringraziare tutti i lavoratori della sede di Chieti che sono rimasti oltre all'orario ordinario, abbiamo avuto un'apertura straordinaria, prolungata, proprio per consentire questa liquidazione. Abbiamo avuto tante richieste, tante informazioni, c'è anche un aspetto tecnico che dobbiamo considerare. Il decreto che ha istituito Quotacento non è ancora stato convertito, quindi ci sarà qualcuno che ancora aspetta questo momento, soprattutto nell'ambito del pubblico impiego, dove le dimissioni sono irrevocabili. La richiesta va fatta prima di essere usciti dal mondo del lavoro, proprio in particolare per il mese di aprile, non abbiamo neanche aspettato la cessazione, ma abbiamo liquidato prima, poi verificheremo le venute di dimissioni, perché ovviamente per andare in pensione bisogna dare le dimissioni, e Quotacento in particolare non si può neanche lavorare dopo la pensione, mentre col pensionamento ordinario c'è la possibilità di prendere la pensione e lavorare, per Quotacento c'è un periodo di tempo in cui non si può lavorare, che è il periodo di tempo fino a quando si sarebbe maturato il diritto alla pensione. A mettere in guardia contro il rischio del ricalcolo percorso è il patronato in CGL di Chieti. È chiaro che sia per quanto riguarda il Quotacento, sia per quanto riguarda e soprattutto il reddito di cittadinanza, non è che una volta liquidato abbiamo risolto il problema. Nella comunicazione che gli eventi di diritto riceveranno ci sarà salvo verifica e con guagli che possono essere realizzate, messi in atto dall'Inps. Quindi è chiaro che è una criticità che potrebbe svilupparsi per i prossimi mesi, soprattutto per il reddito di cittadinanza e soprattutto per una fetta della popolazione che è sicuramente in una situazione di difficoltà finanziaria.